Prima fila, Magazine. Dal 15 al 27 marzo al Teatro delle Moline riprende la stagione con uno spettacolo intitolato Una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvioni al contrario di e con Matilde Vigna. Matilde, benvenuta. Ciao, grazie. Raccontaci di questo spettacolo. Questo spettacolo è un monologo, una riflessione che incrocia la contemporaneità con un evento naturale, traumatico, come tanti ce ne sono stati nella storia italiana e a cui possiamo, insomma, con un triplo saldo mortale nemmeno troppo articolato paragonare anche la recente pandemia. Sono due momenti di fuga di una ragazza della mia età che fa un trasloco, l'ennesimo trasloco e la popolazione del Polesine che nel 1951, il 14 novembre, viene colpita dall'alluvione del Po. E quindi è una riflessione sulla perdita, su cosa significa perdere tutto da un momento all'altro, scegliere di andarsene o non avere nessuna scelta e come poi si ricostruisce. È un tema, tra l'altro, tristemente attuale anche alla luce di quello che sta succedendo ai noi nell'est Europa. Sì, è tristemente attuale, ma sono molto felice, a maggior ragione, penso sia importante, come sempre è importante il teatro che ci fa riflettere e porre delle domande, provare a dare le nostre risposte su, insomma, questa possibilità di riflettere insieme su cosa significhi perdere. Perdere la propria casa, il proprio spazio, la propria città, la propria cultura, dovendo scappare, è sicuramente una delle cose peggiori. Cerchiamo di mantenere il punto anche attraverso il teatro, soprattutto attraverso il teatro. Matilde, ti ringrazio. Lo spettacolo, ricordo, al Teatro delle Moline dal 15 al 27 marzo, una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvione al contrario, di Econ Matilde Vigna. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie.